Casa Poderosa è la location ideale dove trascorrere i momenti più belli per il tuo Natale, Capodanno, cene romantiche, serate con musica ed eventi privati, piatti genuini e appetitosi realizzati secondo la migliore tradizione culinaria dell'entroterra pesarese, carne di allevamenti nostrani con piatti unici e raffinati. Casa Poderosa è aperta tutti i giorni, a cena e a pranzo, il sabato e la domenica, chiuso il lunedì.